Parmenide di Elea è stato un filosofo greco antico nato nella Magna Grecia a Elea, oggi a Shea, in provincia di Salerno, tra il 515 a.C. e il 510 a.C. e morto nel 450 a.C. Parmenide è il fondatore della scuola di Elea, il cui più importante discepolo è Zenone. Parmenide è il filosofo che per primo parla esplicitamente dell'essere, che descrive con la celebre frase l'essere è e non è possibile che non sia, il non essere non è ed è necessario che non sia. Secondo Parmenide le continue trasformazioni a cui è soggetta la natura sono semplicemente un'illusione. La vera natura del mondo, il vero essere della realtà, sarebbe infatti statico e immobile. Parmenide si serve della logica formale di non contraddizione, da cui trae la conclusione che l'essere è immobile, uno, immutabile, ingenerato e immortale, indivisibile. L'essere è immobile perché se si muovesse sarebbe soggetto al divenire, e quindi in un certo momento sarebbe, in un altro invece non sarebbe. L'essere è uno perché non possono esserci due esseri. Se uno è l'essere, infatti, l'altro non può essere l'essere, e sarebbe quindi non essere. L'essere è immutabile perché non si può affermare che è stato o che sarà. Se si dicesse che l'essere era oppure sarà, infatti, si caterebbe in contraddizione perché allo stesso tempo si potrebbe dire che l'essere non è più, in quanto è stato, o non è ancora, in quanto sarà. L'essere è poi ingenerato e immortale, poiché, se così non fosse, sarebbe anche non essere allo stesso tempo. La nascita, infatti, significherebbe essere, ma implicherebbe anche il non essere prima di nascere. Allo stesso modo, la morte significherebbe non essere, ma anche essere fino al momento della morte stessa. Infine, l'essere è indivisibile perché, se così non fosse, sarebbe necessaria la presenza del non essere come elemento di divisione. Quindi, ripetiamo nuovamente, l'essere è immobile, uno, immutabile, ingenerato e immortale, indivisibile. Parmenide paragona quindi l'essere a una sfera perfetta, sempre uguale a se stessa nello spazio e nel tempo, chiusa e compiuta. Fuori dell'essere non può esistere nulla, perché il non essere, cioè ciò che è fuori dall'essere, non è. Quindi il non essere non è, per sua stessa definizione. Quindi il divenire che gli esseri viventi percepiscono con i loro sensi è una mera illusione, cioè qualcosa che appare ma in realtà non è. Ne consegue che la vera conoscenza non può derivare dai sensi, ma nasce esclusivamente dalla ragione. Di conseguenza, poiché l'essere si trova nel pensiero, nella ragione, la pensabilità di qualcosa dimostra anche la sua esistenza, in una identità immediata di essere e pensiero, che implica l'abbandono di tutto quello che, invece, in tal proposito ci dicono i sensi. Parmenide spiega poi il motivo per cui gli esseri umani tendano a basare le proprie esistenze sul divenire, cioè sui fenomeni, su ciò che gli accade attorno, sostenendo che tutti noi seguiamo l'opinione, cioè la doxa, anziché la verità, ossia giudichiamo la realtà in base all'apparenza secondo procedimenti illogici. Compito del filosofo è quindi quello di rivelare e la nuda verità dell'essere nascosta sotto la superficie degli inganni dei fenomeni. Bene, questo è tutto, vi ringrazio sinceramente per l'attenzione. Alla prossima!